Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. Nel corso di questo, martedì 8 marzo, giorno della festa della donna, irromperà una nuova perturbazione artico-continentale, quindi particolarmente fredda, proveniente dall'est Europa. Avremo quindi un nuovo peggioramento sul versante adriatico al sud, con piogge e nevicate, sino a quote bassissime. In Abruzzo, giornata da pieno inverno, specie al mattino e nel poveriggio, con tanti nubi e precipitazioni diffuse, più consistenti, più persistenti a ridosso dei monti e delle colline. La neve scenderà, sino a quote bassissime, attorno ai 100 metri di quota, ma non escludiamo qualche rapida nevicata anche lungo le coste abruzzesi. Le temperature in marcato calo, minime tra i meno 5 gradi di L'Aquila e 2 gradi di Pescara, massime da pieno inverno, con molti gradi sotto le medie del periodo, tra 1 e 6 gradi, leggermente più asciutto solo nelle aree più interne, specie a confine con Lazio. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.